E bentornati, io sono Dixo e siamo di nuovo nella Ultra Hardcore Questa nuova serie, cioè nuova, sempre la solita serie Ce l'avevamo lasciati con questo muro qua Eravamo, avevamo, eh, o se non sono più buono a parlare, capace, o se non sono più buono o capace Non sono più capace a parlare oggi Allora, ce l'avevamo lasciati con questa legna, eh sì, con la legna, oddio Con la pietra da scavare, questa qua, per trovare dei materiali con questa caverna Ora, io inizierei intanto, nel frattempo, a fare delle, 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 delle scalette Che potrebbero essere sempre utili Dov'è? Ok Delle scalette, intanto nel frattempo, un attimo Devo vedere come siamo messi qua, dove che era la nostra piccola farm Piccola, piccola La nostra piccola zona, zona da coltivare Non c'è ancora niente E qua il bambù non è ancora meno cresciuto Perché non è cresciuto niente Ci abbiamo una pecora Potrebbe tornarci utile Perché, ovviamente, di fare una cosa Iniziare a costruire Iniziare a fare qualche costruzione Allora, intanto nel frattempo Carne l'abbiamo Sì, prendila almeno la carne Allora, carne ne abbiamo E questa qua E questa qua la possiamo mettere A posto Questo non ci serve No, questo qua magari ci serve Nel caso di emergenza Questo non ci serve Poi andremo a buttarlo C'è ancora un seme Ora direi di fare Un po' di scale Tanto com'è che si faceva così Facevano così E ce ne è così Quante ce ne escono? No 52 dovrebbero bastare Bastano e avanzano Proprio Cioè Allora, ci sono un po' di mucche Qua su abbiamo una pecora sola Ok Ah, c'è un'altra pecora lì Bene, perfetto Ora direi di iniziare Non so Se andare avanti qua O andiamo avanti Giusto un pochino Giusto poco poco Però c'ho piccone di pietra Ahia Piccone di legno Mi servirebbe piccone di pietra Quindi rompiamo della pietra Per farci piccone di pietra Non fa una piega Voi che dite? Ok Ah, tanto devo iniziare a piazzare le scale Così andiamo un po' più velocemente Andiamo un po' più spediti su Sprechiamo meno energia Perché fare i salti Ok Ok Ok, ok Raccogliamo il tutto Allora Qua ci mettiamo un blocco di questo Una torcia che non si vede niente Almeno io non vedo niente Perfetto Abbiamo del ferro Del ferro Quindi subito subito Allora Nel frattempo piazziamo Le scale Così almeno Siamo Già operativi Dove le piazziamo? Piazziamole qua Ok 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 Voilà Perfetto Così siamo un po' più veloci Ora subito subito Farci un piccone di pietra Per prendere sto ferro Lo mettiamo subito a cuocere Allora Piccone 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 di pietra Piccone piccone Allora la pietra Ok Ne faccio solo uno però Eh purtroppo Dovrebbe bastarmi Eh Adesso Andiamo a coerire l'altra pietra Comunque un po' dovrebbe durare Eh Dove è la caserma La Caverna Che caserma Sì Però usiamo le scale Ok 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 Perfetto Perfetto Scava 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 Eeeh Minchia quanto Tre Quattro blocchi Cinque Sei Sette E otto Basta non ce n'è più Ne Ok E chiudiamo il tutto Ok Ora Scaviamo Qua Dove deve essere così Scaviamo Andiamo avanti di poco Due o tre pezzi Poi Perché tanto nel frattempo Devo ora iniziare a raccogliere la lana Tanto Allora io direi di farci subito uno scudo Poi Appena appena abbiamo il ferro pronto Scudo Veloce Facile Facile Che serve sempre lo scudo In questi casi Perché vorrei andare anche A cacciare A cacciare Si può dire Qualche scheletro che mi da la polvere Le ossa Che poi la trasformo In Nostra di polvere In modo da essere un po' più veloci Con la produzione Nel mangime Per far accoppiare Le pecore Credo Si Dove accoppiare Con il grano Non ricordo male Ok Torci Ne abbiamo ancora Tre Allora direi di scavare Ancora Due pezzi Adesso vediamo un po' Poi non so se tagliarlo Andare avanti Tagliarlo Fare Farlo Cioè non registrare Mentre lo faccio Ma no Mi piacerebbe Che voi vediate tutto Ok Ok Tanto Poi Man mano Aggiungiamo Anche Il resto Aggiungiamo anche Le altre scale Ci possono sempre Tornare utili Eh si Ok Torce 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 E luce Non fu La luce fu Ok Perfetto Andiamo Facci altre torce Aspetta Tanto mettiamo Le scale Sto quasi finendo piccone Così Quasi Andrei a raccogliere Anche Della legna La legna Abbiamo Però Però Ci potrebbe sempre tornare utile Ok 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 Perfetto Qua Andiamo a casa Facciamoci Subito Subito Allora Mettiamo a cuocere Questo Questo Quattro Poi inizio a cuocere Tanto basta Poi faccio Un paio di torce Tutte quelle che ci escono Ci ha sette Poi ne faremo altre E farei un altro piccone Solo che Manca la legna Legna Ok Così Per fare i bastoncini Facciamo 12 Dai Non ne facciamo tanti Ok Facciamo Sbagliato Ci facciamo Ho fatto una minchiata Ho fatto una minchiata Ho sbagliato Tasto Vabbè Abbiamo un po' Di piccoli Da far andare Almeno Vabbè Dai Meglio così Allora Legna Come siamo messi Ne avevamo 16 Quasi quasi Poi andrei a raccogliere Magari ci droppano Anche un po' Di mele Visto che ne abbiamo bisogno In questa serie Allora Continuiamo a scavare Bene Perfetto Carbone Visto cosa stiamo finendo Comunque abbiamo già Seputo esperienza Cioè Facciamo Già tanta Facciamo Abbastanza esperienza Sono contento Così Poi successivamente Oppena troviamo la lava Facciamo L'enchanting table Una tavola da Enchantamento E iniziamo a potenziarci un po' Perché nella 1.9 Hanno cambiato Le statistiche Di lotto Dei vari mob E sono diventati Un po' Più cazzotti Lo scheletro Tipo è fortissimo Da tirare giù Adesso vediamo un po' Quindi E ci saranno Un paio di puntate Andiamo in caverna A costruire Tipo 7 nani A costruire A scavare Allora Ricopiamo i buchi Ok 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 Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Scava 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 Tutto che giuro Eh sto facendo sera E mi sa che Fra poco andremo Che se no Facciamo tardi E rischiamo ancora Tanto la legna per fare lo scudo ce l'ho Ma magari nella prossima Puntata Facciamo una sera Alla distruzione di mob Di scheletri Andiamo a caccio Vediamo un po' Ok ok Andiamo avanti ancora un pochino Andiamo avanti Scaviamo qua Scava 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 Lo scavatore Mi chiameremo Timmi lo scavatore Mi piace Oggi lui è timmi lo scavatore Luce 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 Ok ancora un po' Non tanto Ok Timmi 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 Ma quasi quasi Ma quasi quasi Nella prossima Inizierei a fare una piccola farm Di alberi Ma facile Inizierei a fare una piccola farm Andiamo a ricerca di mail Soprattutto Ok Andiamo avanti Ci fermiamo qua Facciamo ancora Sto muro E ci fermiamo qua Per questo puntato E tutto Scava scava Ok Ok Allora Questo a posto Impiacchiamo Le ultime Scalette Le ultime Le prime Di tante altre Ok ok Vai su Vai su Corri Corri Ok Andiamo a casa Andiamo a svuotarci Allora Tanto qua è cresciuto Niente male Niente male Qua Qua non è ancora cresciuto Che palle Mi lento eh Allora Questo L'abbiamo fatto Ora Raccogliamo questo Mettiamo La legna Questo materiale qua Il carbone Vabbiamo insieme Da piantare Qua andiamo a piantare Un seme Che Può tornare utile Lo piantiamo però Piantiamolo qua dai Dov'è 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 Qua Ok Me l'ero perso Così E Così A posto Tutto Dell'a posto Della pala Ok Ok Allora Cibo Siamo messi Abbastanza Bene Poi Facciamoci Subito Lo scudo Che non mi ricordo male Era 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 Legna Che non ho Perché l'ho posata Sono mezzo Pirla Allora La legna Era così Se non mi ricordo male Con Questo così Perfetto E lo scudo L'abbiamo fatto Lo scudo L'abbiamo fatto Ora Farei Qualche Petto D'armatura Per essere Un po' Più Cattivi A parte Che non lo voglio Di qua Lo scudo Ma lo voglio Non ho messo Lo scudo Ma io lo voglio Di qua Lo scudo Lo voglio Di qua Ok Ma che bello Si difende Mi farei Già Qualche Penso Di armatura Per difenderci Per essere Per difenderci Meglio Ok Direi che Per l'inizio Potrebbe andare Bene così Ok Siamo abbastanza Dai Abbiamo appena iniziato Però Ok Per questo Episodio tutto Ci vediamo Al prossimo episodio Da Dix è tutto Ciao